La Fortis cala il poker battendo la capolista Tuscar con un perentorio 4-1. La cronaca vede subito la Fortis in pressing al settimo minuto con Pecorelli che trasforma il calcio di rigore per il gol dell'1-0. Nel secondo tempo Tuscar arrembante che realizza con Pastore al decimo gol in campionato con un diagonale spettacolare al quarto. Il tempo di gioire ed è Mangione che al 52esimo mette di testa alle spalle del bravo Maccarini l'assist di Pecorelli che arrivava dalla corsia di sinistra. Ancora Gelli al 58esimo dopo una magica triangolazione con Pecorari supera l'estremo difensore. Gara che si chiude all'83esimo con Pecorari dopo una travolgente galoppata in contropiede. Soddisfatto sicuramente il presidente Francesco Martoglio al termine di un incontro. Il primo tempo più combattuto poi chiaramente ha lasciato le redini alla formazione alla Fortis Arezzo la Tuscar in quanto di gran lunga superiore sia dal punto tecnico che dal punto di vista fisico. 4-1 lo dice tutto il risultato come ha detto giustamente Alvaro. Sì oggi è un'ottima prova dei miei ragazzi. Tutti hanno dato tutto, quindi un risultato che non fa una piega, un risultato meritato sotto ogni punto di vista a parer mio. La Tusca sapevamo di venire qui e trovare una bella formazione, la prima della classe. Siamo stati bravi all'approccio con la partita e l'abbiamo concretizzata sotto ogni punto di vista. Quindi mi devo complimentare con la squadra che sono cinque partite che non perde e ci voleva questa vittoria fuori cassa contro questa ottima squadra che sicuramente darà morale e ci terrà pronti anche per la sfida casalinga che ci sarà domenica contro il Santa Brigida, un'altra squadra che è lassù. Sì a proposito ora ci aspettano due turni importantissimi Santa Brigida e poi l'Union Tinchimera che naviga nelle prime posizioni di classifica generale ma se i ragazzi sapranno continuare con questo metro di comportamento sia dal punto di vista disciplinare che di rendimento sicuramente non ce n'è sconti per nessuno. Non siamo inferiori a nessuno, è venuta fuori la squadra che chiaramente era fin dall'inizio, sono tutti degli ottimi giocatori e delle bravissime persone, agli allenamenti sono inventi quindi non c'è proprio da dire niente a nessuno. Un'ottima squadra, un'ottimo staff e sono veramente contento. La posizione in cui siamo non è una posizione in cui ci addice quindi sicuramente la nostra squadra per il gioco che esprime deve stare lassù.